Anche Roseto Valfortore nel periodo di Quaresima si riempie di quarantane, le bambole di pezza che scandiscono il tempo di preparazione alla Pasqua. La quarantana rappresenta una donna con un fazzoletto nero in testa, il fuso e la conocchia tra le mani, e una patata dalla quale pendono sei penne nere e una bianca di gallina. Il fuso e la conocchia indicano la laboriosità delle donne, dedicate alla lavorazione della lana e il trascorrere del tempo che anticamente era rappresentato da Cloto che tesseva il filo. Vestita a lutto, la quarantana viene considerata la vedova di carnevale o l'immagine della meditazione sulla morte di Cristo in tempo di Quaresima. La tradizione vuole che ogni domenica di Quaresima i giovani debbano estrarre una penna nera e per ultima quella bianca nel giorno di Pasqua. Anche Roseto Valfortore dunque porta avanti questa antica tradizione popolare legata alle bambole quaresimali.